Ehi, ciao ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo video di Minecraft Siamo su Langral, che da un po' che non registro Langral, veramente non ricordo dove siamo rimasti Mi sono fatto una spada nuova, un piccone nuovo, tutto nuovo E siamo pronti a questa prossima avventura Abbiamo preso già due lane, quindi toccherà prendere la terza lana Una cosa non si dimenticava di fare è il letto Che volevo mettere un letto vicino per responare, però non ci ho pensato E un'altra cosa che volevo fare Sarebbe bello poter fare un cobblestone generator, però non c'è un secchio d'acqua Ci volevo provare l'altra volta, però ho fatto un piccolo fail Quindi vorrei riprovarci, però con molta calma, sperando di non morire Allora, se io faccio una cosa del genere Ok, secondo me si può creare un cobblestone generator Troppo tardi Tony Eh vabbè raga, lasciamo stare l'età del cobblestone generator L'abbiamo appena mandato a puttane quell'idea, però Andiamo avanti, mi gibberei dei semini vi giuro Per poter fare qualcosa, per poter mangiare qualcosa Perché veramente Cioè, sta cosa non la capisco Cioè, il creatore non mi ha dato un modo Per poter rigenerare la salute Cioè, un semino mi sarebbe bastato Ma ho dato dei funghi che però io Purtroppo li ho usati come un coglione Ma se io qui tipo spacco e faccio scendere la lava Secondo me funziona come cosa Ah, tanto che ho della roba che non sapevo di avere Cioè, non mi ricordavo di avere Se io tipo aggiorno sto blocco Secondo me cosa succede Ah, vedi che abbiamo trovato un sistema per togliere sta lava E uno qua In teoria Vabbè mettiamo la torcia qua Che è a fine che spona qualcuno Di veramente brutto Ah, vedi che in teoria Se mi butto qua sotto Non dovrebbe succedere niente Incocemo le dita Perfetto Siamo scesi Ora qui Mi dice Farmer sick No No Ma stai scherzando No, 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 no I blades no Dai, ma sei un coglione Ma mi metti i blades qui Ma mi odi proprio Ma mi odi proprio Dov'è lo spawn di blades ora Ah, è qui No, non voglio muovere dallo blades Non voglio muovere da blades Che non so spawner subito Dov'è, dov'è, dov'è Ti prego Fammelo vedere lo spawn Tanto abbiamo della cobblestone Raga Cobblestone Sì Cobblestone Cobblestone No, no, salve signor blades Io la voglio bene Tra l'altro le se ne vado un po' a fanculo Per favore No, 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 no Abbiamo della cobblestone E questo mi rende molto felice Voi non potete capire quanto felice Ora mi chiudo un attimo Qui sopra Perché non voglio essere tutto le palle Magari andiamo a mettere Lander C'è sotto anche lo spawner Andate a fanculo E morite Blazer di merda Che bello raga Che bello Allora Non so se l'ha messa apposta Però credo di sì Che è tipo lo step secondario questo Ah, guarda che bello Facciamoci più di una spada Ehi, la madonna No, 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 no Io vi voglio bene Ma cosa? Cosa sta succedendo qua? Ma tutto a fuoco raga Ma come? Come mi ha preso? Come? Come lo spieghi? Come mi ha preso? Non è per niente Una bella situazione Posso farmi un letto? Certo che posso farmi un letto Devo sapere cosa faccio Faccio lo spawn Qui sotto Mi frega un cazzo Non è notte Aiutatemi Facciamo così, dai Prendiamoci tutto Mettiamo tutto Qua a terra Vediamo un po' come è la situazione Qua fuori, dai Io non vorrei morire E perdere tutta la mia roba Ci ho giusto due minuti Tanto Giusto per capire un attimo Il problema è questo Che ce ne sono veramente Un sacco di blades Veramente Veramente Un sacco Quindi non so Cosa mi conviene fare Devo farmi un tunnel Fino a sopra Mi sale sì Mi salgo qua sopra Che raga abbiamo risolto Volevo prendere un attimo Quella cessa Dai Ora morirò per quella cessa Lo so Però voglio andare un attimo A prendere giusto E vedere cosa c'è Giusto per essere curioso Non era un cazzo Era uno stick di merda Io me ne vado Ciao È stato un piacere Lasciatemi stare Ma mi doveva prendere Ma è logico Che mi doveva prendere Raga Ma è normale Che mi doveva prendere Intanto mettiamo La blizzard qua dentro Questo non so cosa sia Ah ok Questo è per le mob farm Quindi questo qua Lo teniamo Nell'ender chest Allora abbiamo Le cartelle che ci indicano Le strade Storm cliff castle Lì andate prima A sinistra Ci facciamo uno alla volta Solo che non riesco a capire Dov'è Questo storm Cioè dov'è Devo scavare Mi dici che devo scavare Forse Perché non riesco a capire Dov'è questo castello Che mi dice lui Ok si si Sbucca da qualche parte Pensavo di no Cioè avevo quasi perso le speranze Salve Ok Ma Ma Sì serio C'era un'entrata Sotto al cazzo Sotto al ponte Ok Grazie mille Io vorrei capire se c'è qualche altra cesta Lì giù ma non credo Lì c'è un'entrata Ok E lì dovrebbe esserci un'altra Entrata Vabbè noi andiamo qua Raga oggi Io avevo estremamente troppo tempo Devo salire Mi sta dicendo Va bene Saliamo con i blocchi Che abbiamo Grazie ai creatori Che mi hanno messo finalmente Tutta la cobblestone E cosa Cosa è qua fuori Cosa Oddio raga Ma cosa è sta roba C'è un castello Nell'acqua Però lì c'è del carbone E io ne ho bisogno Quindi andiamo prima da quella parte là Se riusciamo Intanto non ho capito Se sono io che Io c'ho il rendering Di merda Non capisco se Se lì c'ho il rendering Un po' strano O sono io che Ho il proprio Aperto Non lo so Non riesco a capire nulla Però intanto Noi andiamo da sta parte E ce ne ho a prendere Quel carbone E magari del legno Avrei bisogno Mannaggia a me Che non mi sono portato Del legno dietro Ah intanto C'ho la luce dinamica Quindi Ora invece qua Ormai non è che Mi fido così tanto Di questi Stardy shoes Ok Ne mettiamo Forse Ci toglie il knock Beh ecco Qualcosa del genere Ho capito E' pieno di smeraldi Questo posto Mi conviene buttarmi in acqua Sì mi conviene buttarmi in acqua Spero che non ci sia Tipo qualche mostro Sottomarino Che la gente L'inventa No lo scheletro in acqua E' una delle cose Più brutte Che possa capitare Ecco perché Ora ve lo spiego Perché lo scheletro in acqua Può anche ammazzarvi Non volendo Ora io lo devo ammazzare Forse Sul scheletro Attenti mi fa Ok ok Con molta calma Tony Sangue freddo Oddio Ma Ma che cazzo C'è uno scheletro potenzialissimo Ma che cazzo c'ha Quello scheletro Ciao scheletro Scheletro Come penso di sopravvivere così Me lo spiegate No Ma dai Lasciami stare Io sono un bravo ragazzo Non so Fatto di male Per fare ste mappe pazze Un gruppo di frecce E sono morto Non so se Venite conto Facciamo così va Ok morto Altri stivaletti Vabbè Si sapeva Si sapeva Calma Tony Tanto Tanto questo Mo ce lo portiamo con noi Il problema è che Mo come salgo Lassopra Bisogna andare a prendere Le scale raga Come esco da qua De me la rana Che casino Veramente raga Non potete vedere Quanto tempo ci metto Ci sono episodi L'angra È veramente Un'eternità Quindi Ora mi vado a prendere Le mie cose Vedo se riesco a portarmi Il letto là Così riesco non là Mi metto a farmare Un sacco di cobblestone Faccio dei ponteggi Che nemmeno la ditta Più edile D'Italia Riesce a fare Quella cosa E va rettente sopra E così vedremo Un po' Quello che succede Per voi sarà Fra un attimo Eccoci qua raga Ben ritornati Dopo quando Quasi una settimana Allora cosa Cosa ho fatto In tutto questo tempo Chiedi se mi sono messo A andare un bel po' Allora vi ricordate Questa zona qua sotto Voi Allora visto che Lato di sopra Comunque non abbiamo Più nulla da fare Nel senso Mi sono messo a fare Un po' di farming Ho farmato un po' di terra Tutte queste cose qua Un po' di cobblestone Ho fatto un po' di farming E ora Mi sono fatto Sopi con la base Perché qui Perché qua abbiamo Il L'intersezione Ed allora abbiamo il monumento Quindi non potevo andare Oltre questa parte qua Ho scelto Stazione qua Per farmi una piccola base I spawn di plays In prima non ce ne sono più Per questo Quindi Ho recuperato la mia roba C'è tutto nella cestria Ho sistemato Qua ho messo a piantare Delle patate Perché dove stanno Quei zombie Dove sono quei spawn Sopra Non sono mai troppo Ad una patata Però GG Mi è cresciuta una L'ho ripiazzata Quindi devono crescere Tante patate Così abbiamo Cibo Finalmente abbiamo cibo Qui ho messo L'unico albero di giungla Che c'avevamo sopra L'ho trasportato qui giù E niente ragazzi Tutto qua Stavo cercando di coprire Perché Si è fatto un macello d'acqua Non so come Come risolta questa cosa Devo fare tutto e tuccia Per evitare quell'acqua Però Sti cazzi Alla fine non è custom up Quindi non è che dobbiamo fare La vanilla Qua c'ho messo il letto Ho sistemato un po' Qua i blocchi E qua tutto il resto Questo è tutto quello Che sono riuscito a prendere Perché poi sono morto Sono andato a prendere gli oggetti Laggiù Io ho perso l'armatura Però Abbiamo questa per ora Abbiamo un po' di roba Io ora Ho posato tutto l'inventario Non mi ricordo il motivo Quindi questo qua È il mio inventario Come ce l'avevo prima Ho preso questa roba qua Perfetto L'altra cosa che ho fatto Qua ho scavato Per mettere le ceste Da che ho trovato C'è C'è una stanza con la bedrock Con i buchi qua Cosa è a caso Vabbè Sapete come li facciamo i blocchi Ora vi spiego un piccolo trucchetto Ho visto che c'è molta terra Da quelle parti Quindi ora Ora farmiamo Un bel po' di terra Anzi possiamo farla anche di ferro La palla Sapete Ma si facciamola di ferro La palla Che ce ne frega Se noi metto un po' di FK Cerco di ingrandire Quella cosa di patate Qui ci ho messo la scala Saliamo sopra Andiamo a vedere un po' la situazione Stavo a fare un po' il ponte Lì Però Raga La terra dov'è? Non è qua la terra Stavo a fare un casino Eccola qua Qua c'è un sacco di terra Raga Possiamo farmare tutti questi blocchi Perché questi qua sono blocchi A mio parere Cioè Se formiamo tutta sta terra Ne facciamo un bel ponte Mega enorme E arriviamo lì sopra A Castello Vediamo di far qualcosa di buono Da qua a là possiamo anche Inutile fare un ponte altissimo Poi da lì vuole salir là sopra Andate via da me voi Ma salve E la madò E la madò No 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 Tu vai via Porca tue ragazze Non so con gente qua sotto Salve Ma salve No 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 No, 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 bravo, bravo, vieni qua anche tu, queste ossa ci serviranno dopo raga, ma questa è una trappola instant earth, ok, io torno un attimo indietro, con queste ossa ci andiamo a fare la nostra pianta giù di patate da finire, quindi facciamo così, ritorniamo indietro, no, 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 ti voglio bene strega, brava, brava, via raga, via, abbiamo mezzo cuore, Porca troia, via, andiamo via da qua, comunque questa sparaco smite è veramente comoda, cioè ci voleva, crescete, le mie piccole patate, mangia, mangia le patate, salve, salve, no, 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 state buono, state buoni, state buoni, state tutti quanti buoni, per favore, intanto c'ho smite, tu ci mori subito, vieni qua, pezzo di srotto, vieni qua, devi morirci, ok Abbiamo conquistato il centro del castello Ora non so se sta C'è Stardishers Ok questo è quello che mi ha 30% di chance Oh raga mi hanno droppato un arco con punch 3 Tanta roba Dobbiamo affrontare sto buco qua sotto Mettiamo una torcia qua Porca troia che male Sabe signor creep Porca troia ancora più male No 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 Spacca sto spawner subito Ok abbiamo conquistato un altro piano Buono Flame armored Ok buono Altra armatura Ora se io scendo giù C'è altro Ah legno raga legno Ok buono 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 legno Ora io vorrei anche uscire qua fuori Ma guarda un po' la situazione qua fuori Guarda un attimo dove stanno gli spawner più che altro Così cancelliamo gli spawner dalla resistenza Ok entrate prego Una alla volta li faccio tutti eh No tu no Qua c'è una volta in flash la voglio Ok Voglio fare un attimo una corsa a mettere tante torce così Quando torniamo non possiamo Cioè sono tutti quanti senza senza Oddio No 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 Rientra Rientra No No Perché tutta me Perché C'è un'invasione C'è un'invasione No 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 Non espodere lì di dentro Creeper di merda No Devo purificare questo posto Non mi interessa un cazzo Sarà la mia Oh cavallo Ma sei un infame di merda Sei un infame di merda Fatelo dire Sei un cazzo di merda Io ho quitto da sta mappa Del cazzo Che bello cavalli Trappola come un coglione Ma chi se lo aspetta che c'è La gravel con sotto il vuoto Dai Ma chi è che fa se cattiveria Ma come fa a piglia Ma c'è i shit C'hanno i shit Ma guarda che cazzo di male che fanno Poi Via Via Non mi avrete Via Chiudi chiudi No No Non mi avrai Dai Dai Police Ok Siamo vivi Siamo vivi Calma 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 Chiudi 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 Sigilla ogni porta Ogni porta Sigilla ogni Ogni No Pure i ragni no Dai pure i ragni no Con molta calma ce la stiamo facendo Qui cosa abbiamo Bann off to end it Oh Questa spacca Questa risciotta No il creeper Il creeper non mi ricop Perché mi devono esporre sempre il creeper in faccia a me? Qualcuno me lo spiega questa cosa? Salve Salve No 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 grazie scopera torniamo un attimo a casa raga torniamo un attimo a casa e vado a farmare tutte queste cose per bene e ce ne scappiamo ecco qua un bel arco nuovo per noi abbiamo anche una sella raga io direi di portarci la sella per quel cavallo cioè andiamo a prendere il cavallo raga oh questo è bello per esempio un arco con infiniti è veramente una cosa carina ma tutto questo raga la lana dove caccio è la lana cavalluccio che dici vuoi essere mio amico scegliamone uno rai questo qua nero levati dal cazzo tu dai fai il bravo diventa mio amico ok bravo bravissimo ora tu mi aspetti qua io dopo ti vengo a prendere tu vai giù non mi interessi si eccola finalmente finalmente raga finalmente la lana che bello sono concluso di questo episodio questo veramente da un'ora a registrare andiamo via cavalluccio vieni con me vedi molta calma no perso il cavallo raga non male hanno fatto su uno del 3x3 perché altrimenti non sapeva come fa e qua invece qua è un bel problema volevo scendere sai quella ti terrò qua io ecco qua sei felice ora? si la posso mettere anche nel posto episodio della lana perché veramente raga capitemi che voglio staccare sono veramente stanco magari dopo vado a prendere un semino dove stanno quelle foglie per spaccare trovare un semino per un altro albero e per quanto riguarda il tutto raga prossimo prossimo dungeon lo facciamo nel prossimo episodio io ora vi ammazzono è stato un piacere spero che vi piaccia perché ci siamo estremamente del tempo per fare tutto questo e dai che voi spero di viaggio mi raccomando lasciate un bel pochino in su rischietate al canale se non siete iscritti mi raccomando seguitemi anche su twitch che a volte porto un po' di live su minecraft vanilla e niente un bacione da Tonialo vi vediamo nel prossimo video ciao bella ciao 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 Grazie a tutti.